L'Ujudo L'Ujudo, antico sistema giapponese di lotta sportiva, è intensamente praticato fra la gioventù austriaca. Gli allievi che vedete, ragazzi dai 10 ai 14 anni che indossano il bianco camice nipponico, sono soltanto la loro ventiquattresima lezione e hanno già piena confidenza con i vari segreti tecnici dell'Ujudo, che consiste principalmente in 15 movimenti chiave e risponde allo scopo di temprare la gioventù al coraggio e allo sforzo fisico, abituandoli ad una rapida realizzazione del pericolo e ad una tempestiva reazione. L'Ujudo